Il DPCM del 3 novembre ancora all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto ieri dal Prefetto di Salerno Francesco Russo per il consueto monitoraggio sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in provincia. All'ordine del giorno la recente circolare inviata ai prefetti dal Ministero dell'Interno sulla prevenzione dei fenomeni di assembramento e sulle misure che consentono ai sindaci la possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani laddove sia impossibile garantire il distanziamento sociale. Nel corso dell'incontro a cui hanno partecipato oltre ai vertici provinciali le forze di polizia il sindaco del Comune di Salerno Vincenzo Napoli con l'assessore della mobilità Mimbo De Maio e il comandante della Polizia Municipale Rosario Battipaglia, il vicepresidente della provincia Carmelo Stanziola e i sindaci Stefano Pisani e Domenico Volpe in rappresentanza di Anci Campania sono state esaminate le ordinanze limitative della mobilità in aree o centri urbani finora adottate da alcuni amministratori locali in provincia di Salerno in applicazione dei contenuti dell'ultimo DPCM. Nell'occasione il sindaco di Salerno che già dalla scorsa settimana ha disposto la chiusura del lungomare della vila comunale nei weekend e nella riunione di ieri ha pronunciato la chiusura di ulteriori punti di aggregazione piazza Bate Conforti e piazza San Francesco per limitare il più possibile la diffusione del contagio. In linea generale i rappresentanti dell'Anci hanno evidenziato la necessità di supportare i sindaci nella redazione delle ordinanze attraverso un'azione di indirizzo comune da tradurre in eventuali linee guida al fine di poter affrontare in modo sistemico le criticità per il contenimento del virus. A riguardo il prefetto russo ha assicurato l'emanazione al termine della riunione di una circolare ai sindaci per una corretta applicazione delle disposizioni del DPCM. Nei provvedimenti che verranno adottati occorre tener conto, ha chiarito il prefetto, dell'impatto delle misure sugli interessi in gioco, delle fine età da perseguire e delle necessità di calibrare le disposizioni sulla base delle abitudini delle comunità locali secondo principi di proporzionità e adeguatezza. Nel contempo il prefetto ha garantito la consueta collaborazione delle forze dell'ordine attraverso l'adeguamento dei dispositivi di controllo nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio sulla base delle esigenze rappresentate.